Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Scribblowns Unlimited Siamo qui per liberarci delle scorie Come faccio a liberarmi delle scorie? Ah, intanto mi avete suggerito di fare una cosa Aggiungi aggettivo Sexy Non si può Sensuale Dai, sul serio? Shogunale? Sono Shogunale, ok? Capita Chi è che non è mai stato Shogunale? Come faccio? A smaltire questi rifiuti Ehm, come si fa a smaltire un rifiuto? Uno spazzino Un camion dell'immondizia Un camion Un netturbino Un netturbino Dai! Prendilo! Prendilo Oddio! Ah no, sei ancora vivo Come faccio? Non lo so Allora, tu cosa vuoi? Comporti il nemico aiutami a scappare Allora prendiamo un macete E attacchiamo sta cosa Così mi piace Il crimine non paga Esattamente Cassaforte immobile Don't give a shit Salva le ragoste Inganna i pescatori Riempiendo la trappola con qualcos'altro da mangiare Beh, se non sono le ragoste Saranno Le anguille Anguilla E vabbè cos'è una super anguilla Giustamente L'elettricità Boom boom Shaka daka daka Boom boom Allora Devo fare questi Allora Allora Ci mettiamo dentro una Un maiale Vediamo Chi non vorrebbe mangiare un maiale? Sei uscito? Ma vaffan bene Allora un Un Orata L'orata? Un branzino? Ah, così mi piaci Senti A sto punto ti dico Vaffan galla Mettiamoci dei gamberetti Gamberetto Il gamberetto non può uscire Mettiamo qualcosa che non si muova Tipo una bistecca Tu starai ferma lì? Ah, sì, grazie Grazie Ora Come smaltiamo queste cose? Abbiamo finito Eh sì, ci manca solo questa Per smaltire i rifiuti Incere Inceneditore Un incendio Scherzavo? Cos'è? Incendio estinto Ma vaffan bene Ma che ti vuole? Via Mmm, portando portiamo questo sopra? No Scusa, e se io modifico Aspetta No No, mi da scema Ehm Aggiungi aggettivo Non Radio Attivo Innocuo 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 È un aggettivo No? E dai Più innocuo di così Tu non vuoi mangiarlo Pesce rosso luminoso grande Corallo luminoso colossale Addirittura Colossale lui Mizzica proprio Della serie giggino Re Come faccio? E se io mettessi sotto una capsula Anzi una Campana Di vetro Gigante Magari speriamo un po' più gigante Come faccio? E non mi da nemmeno aiuti Scorie tossiche Deve esserci un modo migliore per smaltire questi rifiuti Quale? Dimmelo Aspetta, andando prendiamo una corda Corda con gancio Corda con nastro Non c'è una corda? Una cruda? Cava Nitro Che cosa è? Brutte cose accadono Chi fa queste cose? Aggiunge aggettivo Guidabile Non ci posso credere Non ci posso credere Volante Guidabile Volante Vai vai sali Un minuto Ti metto qui vicino No, clicca lì Smonta Come faccio? Li faccio esplodere? No, poi è peggio Come faccio? Come si fa? Come si fa a smaltire dei rifiuti radioattivi? Aspetta, tu torna giù Che cacchio Ora Cambiamo gli aggettivi E togliamo tutta sta roba Facciamolo esplodere Li spariamo? No Abbiamo già provato l'altra volta, vero? Come faccio? Come faccio? Come faccio? Scrivi un oggetto Per smaltire Per smaltire Uno cosa usa per smaltire? Io uso Quando devo smaltire qualcosa Un cestino Una bomba Atomica Andiamo Atomico con radioattivo Si! Grazie Grazie, lo so Lo so Grazie No, non serve Non serve Si, lo so Grazie Lo so No, basta complimenti Lo so Il mio starlight dove è? Scusa Ma scusami Io posso fare così? Paffaffatta Cogli No? Va bene Scherzavo Posso usare un sottomarino? Sottomarino Guidabile Arcobaleno La potenza La potenza È grande In questo sottomarino Oh yes Mi manca ancora uno Attacca Cosa ho attaccato? Aspetta smonta Posso volare io? No Cosa mi manca? Cosa mi manca? Qua mi dice che mi manca qualcosa Tu devo fare qualcosa con te? Inizia Ma no, questo l'ho già fatto Non dimmi che mi tocca rifarlo Chi se ne frega? Non posso andarmene E vabbè, usiamo una pistola nucleare Se permetti Aspetta Butala Oh mamma mia Stavo per fare un Allora Usiamo una Come si chiama? La cerbottana Oh sì, baby Andiamo Attacca Dai che ce lo puoi fare Vai Vai Gli ultimi due colpi Ah no, vabbè Uno sono No, no, non serve Ui direi che posso farlo all'infinito Ciò che mi stai dicendo Questo l'ho già fatto Questo l'ho già fatto Questo l'ho già fatto Questo cos'è? E' il museo? No Qua ci va solo di sopra Questo è il museo l'ho già fatto L'ospedale Mi pare di averlo già fatto L'ho fatto tutto a santa asterisco? Si, l'ho fatto tutto Oh my god What the fuck is happening? Oh, andiamo a fare un altro livello a sto punto Alture il trattino Ah, l'ho già fatto Torna... Vai al mondo Questo l'abbiamo fatto? Abbiamo fatto tutto qua Allora perché mi dici che non l'ho fatto? Stupida cagna Ristorante il punto Giustamente È un ristorante quindi bisogna ristoreggiare Che belli cagnolini Questo c'è un ciuffo della madonna Il cazzo è Rian? Minotauro? Ok, prendiamo qui Dai da mangiare gli ospiti affamati Giustamente Ehi! Tu vuoi del pollo? Al cliente in molti giorni Lo vorrà del pollo No? Cos'è che vuoi? Che mi aiuti a crescere Ah! Steroidi No? E allora diciamo Bistecca Ti aiuta a crescere una bella bistecca no? E mangia la bistecca Bravo! Oddio! Cosa ha fatto Body Binging? Ah ha preso gli steroidi C'erano gli steroidi nella bistecca Capito tutto Era uno scherzo la cosa del pollo eh naturalmente Il vampiro vuole provare qualcosa di nuovo Dai qualcosa per silvere la sua sete Succo d'uva Succo d'uva Succo d'uva Un succo Di frutta Un succo di frutta Ma lui non vuole del sangue No freghiamo gli diamo del succo di frutta rosso Ma certo Mh amaro Succo frutta Rosso Più di così Vediamo frutta succo rosso Amaro Oh si Ti piace Anche se è amaro Oh cazzo Delizioso Grazie di aver dimostrato un'alternativa migliore Di niente Niente Colpa della cravatta Il robot è qui per un aggiornamento E' qualcosa che un robot possa mangiare Olio Gnam Che cosa? Io robot? Mi ammazzerai? Ah sei un androide Galaxy S4 Eh? Il cannibili è venuto per il piatto del giorno Scrive qualcosa che possa mangiare Un bicipite E' esattamente ciò di quello che ho bisogno Eh? Ma anche tu se mi moccuccino niente cosa? Gnamaga Nananananana Servizio serale completato Lo so Grazie Lo so Basta Basta Lo so Grazie continuo oh si se continuo tu cosa vuoi? che noia dammi qualcosa per divertirmi un clown ahahahah che ridere tu dove vai? vuoi qualcosa? spero mi diamo qualcosa per farmi stare meglio no tu non puoi andare via ti vuoi dare qualcosa per stare meglio è tipo dei fiori ho un fiore un fiore va bene lo vuoi un fiore si? oh si che lo vuoi un fiore pervertita il cazzo oddio il fuoco dare lo chef di ingredienti necessario per preparare le portate per ogni cliente ok quindi sto chef va bene cos'è il trio dell'ave material? questo è harry potter guarda dare lo chef di ingredienti per creare piatti differenti comincia aggiungendo tre ingredienti di una pizza allora direi che ci pentiamo la mozzarella di bufala rigorosamente poi la pasta di pane e la classicissima margherita con il pomodoro il cibo ok il formaggio è un classico sulla maggior parte delle pizze pizze ho capito si è utile per creare la salsa ma va il pane il pane ah c'era già la pasta di pane scherzavo prende la pasta di pane scherzavo prende la pasta di pane scherzavo la pasta di pane scherzavo il pane scherzavo il pane scherzavo prende la pasta di pane scherzavo ci vuol ci vuole un uccello uccello ho scritto uccello prende l'uccello ok c'è un uccello giungerà piume piuma di fenice piuma feroce di tec va bene questo è il piumato è già stato aggiunto però un altro ingrediente cosa vuolete fenice magica una bacchetta bacchetta di sambuco di bambù anche va bene dura una dura bacchetta di bambù insomma me lo vuoi? no scherzavo ruba elimina prendi metti la qua sopra prendi metti la qua sopra prendi la estratto di non conosce la parola estratto essenza magica essenza magia equina magia equina mamma mia dai non dimmi che la magia equina non è delle tue parti insomma è magia e anche equina aggiungi qualcosa che hanno tutti gli uccelli becco sì ok c'è il becco è una buona punta di potere magico una bacchetta magica assuga questa è una fenice abbiamo cotto una fenice povera però se mi è ancora un po' cruda tu ti sei fatta fare una fenice per mangiartela da chi stai dai cosa vuoi te una moto allora per fare una ruota ci vogliono ci vuole una ruota ci vuole un motore motorte ci vuole un motore ci vuole un manubrio ci vuole un manubrio no? me le ruote te le ho messe me le ruote te le ho messe ehm ci vorrà una sella no? Mettiamoci un'altra ruota Abbiamo una ruota Abbiamo il manubrio Abbiamo il motore Che serve no? Servirà Dammi quel uccellino intanto Raccoglio l'uccellino Puoi mangiarlo? No, che caso Mmm Ho bisogno di qualcosa di circolare La strada Ho bisogno di un materiale molto solido per fare il telaio Acciaio Inox Acciaio Bella così Che tima Ah, ok Riuscite la moto Mi piace Questa moto è troppo bella per darla via Ci vediamo The fuck Vabbè, almeno lo starite Che mi fega del resto Appendista chef completato Oh, grazie Lo so Sono un grandissimo chef Vai da Livi Andiamo da Livi Comunque 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 Posso e Posso mettere in pausa Posso mettere in pausa Voglio, mettere in pausa Bla, 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 bla Aha, vola via Oh, abbiamo sbloccato una nuova zona Un'altra stellina? Quante sacchie di stelline gli dai? Tu e due stelline Oh, sta diventando tutta roccia Così mi piaci Che bello È un cane o un dinosauro? È un canguro Icon bam bam Colpa liberante Comunque Posso finalmente fare ciò che devo? Quante stelline c'hai? Un po' pure il pirata Assassin's Creed 4 guarda Hai finito? Blizz Blizz Si Si Per questo episodio è tutto Io vi saluto Ciao a tutti 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 I Grazie.